Mercoledì prossimo il Consiglio Comunale di Santa Marina deciderà le sorti del consigliere di minoranza Salvatore Tagliaferri. L'Assemblea infatti il 25 gennaio sarà chiamata ad esaminare le contestazioni presentate dal componente della minoranza sulle cause di incompatibilità avanzate dalla maggioranza del sindaco Giovanni Fortunato. Per l'amministrazione Tagliaferri non può sedere in consiglio perché ha presentato ricorso al TAR contro la nomina della Commissione del Paesaggio e perché è figlio di un dipendente dell'Inps che in base ad una circolare dell'istituto avrebbe dovuto comunicare ai dirigenti il suo legame di parentela con l'amministratore comunale. Per quest'ultimo punto Tagliaferri Junior ha chiarito che il padre proprio in virtù della circolare in questione non si occupa delle pratiche che interessano Santa Marina. Per la questione legata invece alla nomina della Commissione del Paesaggio ha precisato che trattandosi di un argomento di interesse pubblico poteva presentare ricorso senza incappare nell'incompatibilità. Un ricorso tra l'altro presentato insieme agli altri consiglieri di minoranza e per il quale recentemente è stata emessa anche la sentenza che boccia la delibera della maggioranza e annulla la Commissione del Paesaggio. Insomma per Tagliaferri non ci sono le condizioni per essere dichiarato incompatibile. Per la maggioranza invece ci sono tutte e per questo è facile immaginare che l'amministrazione Fortunato nella seduta di mercoledì nonostante le articolate contestazioni alle cause di incompatibilità presentate dal consigliere di minoranza andrà avanti nel suo percorso. Respingerà le motivazioni di Salvatore Tagliaferri decretando in questo modo la sua decadenza. In questo caso nella prossima seduta il Consiglio Comunale dovrà procedere alla sostituzione con il primo dei non eletti della minoranza e quindi con Enzo Perazzo e Tagliaferri ricorrerà alla giustizia amministrativa. Nel caso contrario il consigliere di minoranza resterà al suo posto.